Noi come parrocchie di Partenico, rettorie e sacerdoti vogliamo rispondere all'appello di Papa Francesco il quale parla di una missione, di una chiesa in missione e di una missione in occasione dell'anno santo. Noi inizieremo la missione mercoledì 10 febbraio, una missione popolare cittadina. Andremo di porta in porta, Don Carmelo è da tempo che lavora appunto con un'equipe cittadina e il titolo che abbiamo dato in una riunione che abbiamo fatto di vicariata a Borgoparrini apre il cuore alla tenerezza di Dio. E quando siamo stati in udienza dal Papa per il giubileo diocesano dal 27 al 31 dicembre il Papa Monsignor Arcivesco ha detto raccomando ai sacerdoti la misericordia e la tenerezza e questo è il senso anche della nostra missione. Desideriamo come obiettivo della missione arrivare soprattutto ai lontani, essere missionari cioè chi vive e fa un'esperienza già con Cristo diventa missionario per chi ancora non ha fatto questa esperienza. I lontani sono coloro che maggiormente hanno e necessitano la nostra attenzione, sono coloro che si sono smarriti nel cammino della vita, la gente scoraggiata, coloro che vivono nelle periferie dei nostri centri urbani, coloro che necessitano anche di quelle semplici attenzioni che la quotidianità propone. Questi sono i lontani dove noi cercheremo di essere presenti e dove porteremo un annunzio di gioia, un annunzio di verità, un annunzio che per noi ha anche presenza, è la presenza di Gesù Cristo. C'è tanta gente che magari presa da impegni, problemi, alcune volte si allontana senza pensare che il suo punto di riferimento è il Signore e l'occasione di quest'anno della misericordia e questa missione sarà proprio quella di ricordare a tutti che bisogna ritornare dal Signore. Ecco come diceva Don Basi, noi non abbiamo i cosiddetti lontani da recuperare, ma abbiamo gente da avvicinare e camminare insieme per riscoprire quanto Dio ci ama. Quindi non possiamo legare la nostra fede soltanto ad un credo e quindi per dire che ogni tanto prego il Signore quando ho di bisogno, magari se trovo una chiesa aperta vado lì dentro soltanto per pregare da solo, ma l'importante è vivere questo incontro con il Signore, poi anche all'interno di una comunità, è importante anche questo. La missione che dovremmo realizzare di porta in porta è una missione che vuole spingere i fratelli nella fede, a vivere questa fede, perché se non si vive la fede è soltanto facciata e basta, vero? Non vorrei che, come diceva Sciascia in un suo romanzo, diceva il popolo siciliano è un popolo religioso ma ateo, potrebbe sembrare un controsenso ma in realtà è la realtà, è religioso vero apparentemente, ma poi nella vita si comporta da ateo. Per grazie di Dio tanti fratelli, tante sorelle, tanti cristiani si dicono cristiani e lo sono realmente tali per la vita che conducono. La missione ha lo scopo di svegliare, ecco, di incoraggiare a vivere quotidianamente la fede.